Nicola, bentornato. Quali sono le tue prime sensazioni? Sono state belle sensazioni. Sembrava come se fosse la prima volta. Non vedo l'ora di cominciare. Che bari ritrovi rispetto a quando te ne si è andato? Ho ritrovato più o meno lo stesso spirito, lo stesso gruppo. È normale che ora devo iniziare a conoscere bene. Alcuni ci ho giocato insieme, però il primo impatto mi è sembrato un buon inizio. Devo mettermi solo a disposizione della squadra per dare il massimo, ottenere il primo possibile la salvezza e poi ci divertiamo. Che numero di maglie hai scelto? Ho scelto il 33. Tocca al mister decidere, io sono a disposizione. Ci vediamo venerdì. Ciao a tutti, forza al bar!